One. Live. Giuseppe, il quadro che c'hai lì dietro mi fa morire veramente. Spostati un secondo così, girati. Eccolo lì. Ma topolino, non mi puoi far fuori topolino così. Guarda Pippo poi che diceva no, l'ho fatto fuori. Ma così un giorno ti sei alzato e hai detto aspetta che facciamo un quadro così. No, spesso racconto i sentimenti umani, quelli contrastati. A volte ci sono dei raptus. Un po' il mio lavoro è in qualche modo riflette su queste tematiche qui, no? Cioè dalla contestualità del male. E quindi dietro ogni... dietro il bene si sembra il male. Quindi sono due dimensioni che sono destinate a convivere sempre. Ma come ti è venuta quell'idea lì? Perché a me un'idea così, dico Pippo, cioè una pistola in mano a Pippo non gliela metterei mai, insomma, ecco. Cioè sei andato a pensare al personaggio più improbabile che possa fare un gesto. Ma perché, beh, non lo so, topolino è un po' saccente, un po' troppo sapientone, no? Quello... no, guarda, anche alcune letture, tipo c'è un libro di Andrea Pinketz che mi ha fatto molto riflettere, che ho letto è... parla del vizio dell'agnello. Quindi come dietro alcune personalità che noi riteniamo buone, insomma, si nasconde poi un qualcosa che ha a che fare col male. In quel caso lui, la metafora che raccontava era che noi del lupo abbiamo paura e quindi sappiamo difenderci, ma dell'agnello no. E quindi non sappiamo la cattiveria dell'agnello qual è. Quando viene fuori è irreparabile. Chiaro. Ma questo è interessante anche perché, diciamo, hai delle persone, diciamo, dei malvagi o degli stereotipi di malvagità che appena riconosci stai molto attento. E quindi dici, ok, qua ci sto attento. Invece se una persona non la percepisci come malvagia, ma al contrario, dici, ah, che buono, e chiaramente le tue barriere sono abbassate, ecco, quindi sottovaluti. Come la mia gatta Purdy, Giuseppe, che la vedi e dici, ma che carina, è sempre tutta bella. E poi appena ti avvicini, graah, è tremenda, ecco. Ecco, io dovrei fare un dipinto sulla mia gatta. Ma tu quando hai iniziato, Giuseppe, a interessarti di arte in generale, ecco? Da ragazzino eri così, avevi questa vena o una cosa che ho scoperto dopo? Da sempre, da sempre, da sempre. Poi quando sono arrivato all'Università Palermo, ho iniziato a collaborare col giornale Sicile come vignettista, insomma, facevo vignette di satira, politica, sociale. E quindi da lì nasce la necessità di sintetizzare in un'immagine un concetto, una sensazione, una notizia di cronaca. Insomma, è stato per dieci anni, ho convissuto tra l'architettura, facevo l'architetto, e queste collaborazioni con diverse riviste, anche facendo fumetti, illustrazioni. Alla pittura sono arrivato a trent'anni, quindi avendo questo background di esperienze, le ho fatte confluire tutte nella pittura. Questo è interessante, Giuseppe, perché alcuni mestieri allenano una capacità di sintesi che poi ti ritrovi in un altro settore. Io, ad esempio, non ho mai notato il fatto che, avendo fatto tanti anni televisione, dove dovevo sintetizzare in dieci secondi, quindici secondi, una notizia tecnologica difficile, rendendola comprensibile, alleni questo click dove dici, ok, qual è la parola o le cose che posso dire in dieci secondi per farlo capire. E lo stesso, immagino, se fai delle vignette per un giornale, devi dire, ok, condensi, qual è l'immagine, qual è la parola, qual è il gesto, e poi però te lo ritrovi magari appunto quando inizi a fare un quadro. È la stessa abilità, ecco, la stessa competenza, che però ignoravi, che potesse essere utile anche di qua, immagino. Sì, sì, nella pittura non ho una preparazione accademica, ho, diciamo, queste esperienze passate. E quindi la caratteristica proprio della mia pittura è quell'aspetto lì, c'è un aspetto sociale che io ritengo fondamentale. Quindi rifletto spesso anche su Notizie di Cronica. C'è un'altra opera dove c'è Biancaneve che ammazza tutti i nani, e il titolo è La strage degli innocenti. Anche quelle sono notizie di cronaca, quando magari succedono queste stragi familiari, e poi magari c'è il vicino di casa che dice no, ma era una brava persona, mi aiutava a salire le scale o a passare le strisce pedonali. Ma io ci credo che era una brava persona, però poi succedono queste tragedie, no? E tutti ci chiediamo perché. Vedi altri aspetti. Posso farti una domanda veramente stupida nella mia paranoia imprenditoriale? No, non esistono. Io invece pensavo non esistesse, ma da quando faccio tante chiacchierate mi rendo conto di avere domande molto stupide. Ma a prescindere da questo, non ti poni il problema, ad esempio, che se fai Topolino e Pippo Disney ti chiami e ti dica Giuseppe, ascolta, non si può fare questa roba qua, Topolino è untouchable. Non ti poni un problema di questo tipo? Ma guarda, il problema è dell'arte pop, no? L'arte pop usa dei simboli che fanno parte del mondo del consumismo. Quindi senza questi simboli l'arte pop non esisterebbe. Quindi se io spesso uso, che so, i marchi... Cioè, non potrei fare la mia arte se non utilizzassi questi simboli consumistici. Non hai mai avuto dei feedback o un artista di arte pop non ha mai avuto? No, una volta ho fatto un Cristo con le mutande Dolce Gabbana e mi ha scritto l'avvocato di Dolce Gabbana. Però poi alla fine erano perché volevano conoscermi e poi mi hanno commissionato altre opere. Ah, ok. Ah, non ti ha scritto per farti causa? Non ti ha scritto per conoscermi? Sì, sì, perché volevano conoscere. Ma da ragazzino eri... Se facevi dei disegni, qualche cosa, erano già in questa direzione oppure semplicemente così smanettano? E quindi la maestra ti chiamava i genitori e diceva, guardate, Giuseppe ha fatto questo disegno. Insomma, non è magari molto appropriato. Non so cosa diceva. No, più al... Quando andavo al geometra ho sviluppato questo aspetto diciamo ironico e satirico perché facevo le vignette dei professori. Ah, ok. Tra un'ora e un'altra io mi recavo la lavagna e subito disegnavo queste caricature e si rideva. Mi ricordo che un anno anche il preside mi ha chiesto di fare un cartellone con tutte le caricature dei professori. Quindi era un'arte ben accetta, diciamo. Fino all'avvento del mondo cripto ogni volta che parlavo con un artista mi sembrava di fare, come dire, un'opera di beneficenza, no? Dicevo, guarda, dai, ti faccio fare due chiacchiere che magari qualcuno così ti conosce, no? Facevo... era proprio quella sensazione lì, no? Di dire, dai, ce la puoi fare. Da quando c'è il mondo cripto ogni volta che parlo con un artista c'è, tendenzialmente alcuni hanno fatto delle fortune clamorose e è cambiata completamente la percezione. Quando hai cominciato tu a vedere questo mondo, anzitutto? Cioè, quando è che l'hai incrociato? Allora, me ne ha parlato sei mesi fa Giovanni Motta. Ok. Solo che io ero impegnato che stavo realizzando la mostra a Pietrasanta quest'estate. Quindi ho realizzato quasi 14 sculture monumentali. Quindi ero proprio con la testa da un'altra parte. E io ho detto, guarda, dico, quando ho capito il mondo, ho capito che è un mondo nuovo. E ho detto, guarda, come finisce questa mostra? A settembre ne riparliamo. Infatti, agli inizi di settembre abbiamo iniziato a lavorarci e ho cercato di comprendere perché è un mondo che ha nuove regole, ha nuovi sistemi, nuove strutture, no? Rispetto a quelle precedenti. E quindi, insomma, sono lì in quella fase di scoperta. Ecco, per me è un mondo nuovo. Mi sento una specie di colombo che va in questa terra nuova a scoprire un po'. È un mondo affascinante. Poi ho preso coscienza più che altro nel momento in cui abbiamo fatto quella mostra a Lugano in cui in una stanza ho visto l'opera fisica e l'opera, diciamo, NFT, l'opera cripto. E in questo momento proprio ho preso coscienza che è un momento storico, cioè c'è un passaggio storico, insomma, che va registrato al di là di come si evolveranno le cose, però vedere l'opera fisica, vedere l'opera virtuale, si vivono due sensazioni diverse, due emozioni diverse. Quindi è qualcosa su cui riflettere. Ma quando hai iniziato a muoverti in questo mondo cripto, sempre Giovanni, il colpevole è sempre Giovanni, alla fine cerco di ripercorrere lui, capito? L'iniziatore colpevole. A Catao, Giovanni Motta, e poi va bene. Mi sono accorto che in questo mondo, diciamo, c'è un'etica diversa. C'è proprio questa idea di aiutare l'altro artista, invece nel mondo reale c'è più, uno se invidia, competizione. La tua vita mea, insomma, è molto più aggressivo. Ma come l'hai approcciato? Cioè, quindi hai detto, va bene, prova a fare una roba cripto, e che cosa hai fatto? Hai detto, vabbè, prendo e ho questo quadro qua, lo sbatto in formato digitale. Come l'hai cercato? No, no. Poi c'è anche Ivan Quaroni, che è il critico, che da quasi 15 anni segue il mio lavoro, quindi abbiamo fatto una marea di mostri insieme, di eventi e cose varie. quindi in realtà ci ritrovavamo tutte e tre, tipo a cena, oppure nel mio studio, e abbiamo in qualche modo concepito un progetto che si chiama Digital Renaissance. Quindi in realtà il progetto nasce proprio con un editoriale su Super Air, in cui praticamente Giovanni interpretava il mio lavoro e io interpretavo il suo. quindi lui si è fatto influenzare, ha fatto un'opera insomma omaggiando il mio lavoro e io ho fatto lo stesso con lui. Quindi siamo, abbiamo iniziato così, con un progetto comune. Ok, ok. E la, diciamo, l'impatto con queste varie piattaforme, con la parte più tecnologica, come ti sei trovato, come ti stai trovando? Il COSO, il Wallet, le NFT, le OpenSea, le Gasfee, e le Pirupiro. Cioè ogni giorno ce n'è una. Eh sì, infatti ogni volta che mi, mi inoltro, diciamo, in queste avventure digitali e tecnologiche, Giovanni, come si fa? Insomma, ci vuole sempre qualcuno che è già dentro e che in qualche modo, quando sei in difficoltà, ti dica come andrà avanti. Fino a questo incontro col mondo più cripto, il tuo mercato, era un mercato, come dire, prevalentemente italiano, era un mercato internazionale, hai visto un cambiamento di interesse, un'apertura, magari all'estero, tramite la Comity Crypto che prima non c'era, hai visto qualche cambiamento? Vabbè, allora, c'è da dire che ho già fatto solo due opere cripto, quindi, insomma, sono proprio nella fase di iniziazione. No, io ho un mercato internazionale, ho fatto un mostro a New York, in Germania, Londra, insomma, sì, i collezionisti sono internazionali. Ti dirò che mi è già arrivata una richiesta da Seoul, dalla Corea del Sud, di fare una mostra proprio di opere fisiche e opere cripto, quindi molto probabilmente il prossimo anno a ottobre farò questa mostra a Seoul. Ok. Il mio linguaggio pittorico, detto da tanti, è un linguaggio più internazionale, anche se ha le radici profonde nella storia dell'arte italiana perché spesso io rivisito e reinterpreto opere del Rinascimento italiano o del Barocco, quindi ci tengo molto che ci sia un imprinting dell'arte italiana nel mio lavoro. Senti, Giuseppe, ho avuto un'idea pazzesca per una tua mostra, però in Corea del Nord. Potresti fare una mostra in Corea del Nord con queste espostazioni dove c'è Kim Jong-un al posto di Topolino ammazzato da Pippo, ammazzato da Pippo, l'unico problema è poi uscire vivo dalla Corea del Nord se esponi. Ecco, questo sarebbe l'unico problema, però l'idea sarebbe geniale, dai. Sì, lì esci mangiato dai cani. Io sarebbe facile. Ma un'altra cosa che a me incuriosisce molto del mondo poi artistico, digitale è anche tutta la parte più generativa. Quindi mentre stavo guardando il buon Pippo pensavo ok, magari domattina mi alzo con un umore diverso e invece quel quadro lo vedo in base al mio umore cambia l'opera, no? Chiaramente non fisica ma quella digitale e quindi in quel caso vedo Topolino e Pippo che si abbracciano con una stupidata. Il giorno dopo invece sono un po' più stufo e allora Pippo che prende Topolino e lo cerca di strozzare. Lo trovi come dire stimolante la possibilità magari di fare delle opere che cambiano in base a dei fattori o vuoi come dire avere qualche cosa che prendi fotografi in quel momento e rimane così? Allora l'aspetto narrativo nel mio lavoro è fondamentale quindi io cerco sempre di raccontare delle storie secondo me l'arte in qualche modo deve sempre trasmettere una forma di conoscenza e quindi secondo me nella narrazione nella storia è fondamentale anche per comunicare insomma con lo spettatore in questo frame che io racconto c'è sempre un prima un dopo quindi quello che dici tu spesso succede fare due tre opere con gli stessi soggetti io per esempio c'ho un'altra opera con Pippo e Minni ma non ti racconto cosa fanno non lo voglio sapere adesso lo voglio sapere ok non deve dirti no cioè nella narrazione ci sono diversi episodi che possono benissimo convivere in diverse opere ok mi dici la tua giornata tipo non tipo qual è parti a che ora ti svegli allora io vado a dormire tardi quindi mi sveglio in realtà mi sveglio presto verso le nove poi sto al cellulare rispondo ai messaggi perché guarda scusa Giuseppe hai detto mi sveglio presto verso le nove e ieri sera ho visto questo documentario che si chiama 12 Picks del nepalese che ha scalato le 12 montagne più grandi al mondo in sei mesi e il record precedente era di Mesner in 16 anni e lui per un periodo si alzava alle 2 del mattino caricava un sacco da 60-70 chili sulle spalle andava a correre per non so un'ora tornava indietro andava a lavorare e poi andava tipo in palestra fino a sera tardi e ripartiva e si è preparato così per sei mesi quindi alle 2 del mattino è alzarsi presto alle 9 nel suo caso non sarebbe comunque ti alzi presto alle 9 va bene in siciliano alzarsi alle 9 insomma è presto e ci accoglio no poi sto al cellulare così perché arrivano un sacco di messaggi da tutte le parti quindi bisogna rispondere insomma almeno a quelle di lavoro così e quindi resto a letto fino a buh alle 10 e mezza poi mi alzo faccio colazione comunque lavoro solitamente di pomeriggio dipingo di mattina sbroglio tutte queste situazioni qui o disegno faccio però solitamente dipingo il pomeriggio è interessante ma hai diciamo uno studio in casa uno studio separato qui siamo a casa no ho lo studio dall'altra parte della città ok ma ti ero combattuto se fare il collegamento dello studio solo che lì è a piano terra quindi c'è rumore ho preferito insomma fare il collegamento da qui però spesso resto a dormire studio sì perché mi scorso e rientrare a casa quindi c'hai un letto anche in studio no no c'è il suo palco è una specie di mini loft no no è pure abitazione lo studio ok ok ma in quel caso arrivi e come dire arrivi già con un'idea arrivi e inizi a a dire cioè perché io non saprei a dove partire ho la tela davanti e dico vabbè e adesso cosa si fa ma guarda come arrivano le idee non te lo so dire se ci fosse una formula matematica da applicare saremmo tutti contenti in realtà a volte vuoi parlare di alcune tematiche di alcune questioni vuoi fare delle opere su alcuni personaggi allora per molto tempo queste cose ce l'hai nella mente leggi ti informi io prima che insomma realizzo un'opera dovevo essere documentato su tutto e poi non lo so mentre sei in quella fase lì di studio le idee vengono solo che io non sono uno che si appunta alle idee quindi tante vanno via le dimentico quelle buone sono quelle che ritornano allora magari dopo 3-4 giorni ti ritorna quell'idea dopo 15 giorni ti ritorna di nuovo allora dici ma vuoi vedere che questa idea è buona e allora alcune non sei neanche convinto poi diventano quasi ossessive e allora hai bisogno di cioè ti teni liberi solo se le realizzi quindi spesso vi trovo anche a fare opere che non condivido proprio per non diventare se no diventi ossessiva quell'idea però poi gli altri ti dicono ah ma perché hai fatto quest'opera e se no spesso è così mai diciamo un tot di opere che fai e poi tieni lì perché dici la guardi e dici ma no sta roba che merda che ti vergogni anche solo farla vedere oppure una volta che l'hai fatta dici guarda l'ho fatta è uscita e basta sarà il mondo a decidere sì in effetti è così no no io purtroppo produco poco quindi quando le mostre servono le opere quindi non posso permettermi di dire questo è buono questo non è buono quando la realizzo e ci lavo è perché faccio a monte la selezione perché sapendo che lavorerò per un mese su quell'opera se non sono proprio compito non la realizzo quindi quando sì poi quello che dici tu è vero cioè l'opera comincia a vivere nel momento in cui esce dallo studio comincia ad acquisire una sua identità una sua dimensione privata quindi ognuno poi diventa proprietario di quell'opera ognuno trova la sua interpretazione e quindi all'artista secondo me non appartiene più infatti questa estate quando c'era la mostra in piazza lì a Pietrasanta c'erano tutte le sculture lì distribuite mi sono ritrovato con degli amici che avevo conosciuto da poco ed eravamo seduti lì e guardavamo queste sculture e loro mi chiedevano ma tu che sensazione vivi nel vedere le tue cose guarda la stessa sensazione che vivi tu non mi appartengono più cioè sono qui vivo le stesse anche io guardo lì cerco di interpretarle cerco di di trovare nuove nuove letture e quindi è così l'opera ti appartiene solo fino a quando ce l'hai in studio quando esci dallo studio appartiene a tutti è andata due domande pratiche e probabilmente sono abbastanza superficiali però mi stai incuriosendo e quindi magari domattina anche io mi metto a fare delle opere io farei solo racchette da ping pong probabilmente Giuseppe con il mio passato bongistico farei solo racchette 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 guarda le cose di cui hai passione ti vengono bene sicuramente nel mio caso no però quanto ci metti tu a fare per dire il pippo che c'è lì dietro il pippo assassino che c'è lì dietro come si chiama peraltro ah no anzi te lo chiedo dopo come fai a decidere il nome di un'opera quanto ci hai messo a fare quello ad esempio dai venti giorni in su ah wow ok cioè da quando hai l'idea dice ok no quello l'idea faccio il disegno il bozzetto studio tutto però quando lo riporto su tela nel momento in cui inizio lavoro per alcuni sì venti giorni almeno per ogni quadro wow ok anche dalla grandezza questo è abbastanza grande tra un metro e settanta per un metro e venti ok e invece tecnicamente per chi come me non sa nulla di come viene fatto ad esempio un'opera del genere cioè come viene fatto prima viene fatto un disegno a matita come a scuola e poi si si colora poi allora prima si fa il disegno cioè come lavoro io no ti dico come lavoro io dal momento in cui viene l'idea comincia a disegnarla quindi dall'astrazione dell'idea comincia a dargli una forma no delle proporzioni la narrazione l'interazione dei personaggi insomma cioè questo lo fai tutto nel disegno poi in passato nel rinascimento quando tu dovevi poi riportare il disegno sulla terra utilizzavo un sistema che viene chiamato quadrettatura no cioè facevi una griglia sul disegno e la riportavi sulla tela in qualsiasi dimensione no non so se è chiaro questo concetto a me no ma immagina le persone che sono in ascolto sì ecco prendi il disegno fai una griglia che so da un centimetro no una quadrettatura ok poi questa griglia la riporti sulla tela che so a 5 centimetri a 6 centimetri quindi viene una griglia più grande quindi riporti il disegno quadrato per quadrato e quindi ingrandisci il disegno mantieni le proporzioni in questo modo perfetto adesso insomma c'è la tecnologia che ci aiuta e quindi usiamo il proiettore no che quindi fai il disegno fai la scannerizzazione sul computer e poi colleghi il computer al proiettore e riporti il disegno cioè in teoria potresti farlo cioè io potrei farlo insomma anche disegnando ma così è più perfetto cioè più preciso nelle proporzioni ok perché nel momento in cui hai una superficie grande è normale che disegnando qualche proporzione insomma può anche se poi guardando il disegno lo sistemi lo aggiusti comunque è tempo in più che perdi per sistemare le cose questa è la seconda fase riporti il disegno sulla tela e poi inizi con i colori e fai uno studio sui colori io spesso questo studio lo faccio a Gammonde facendo gli acquerelli cioè quindi c'è tutta una progettualità prima di e quindi in quella fase lì l'opera viene concepita poi la devi solo riportare sulla tela quindi quando ma perché io ogni volta che ho fatto un disegno in vita mia quando provo a colorare è sempre tutto sbavato c'è tutto lo so il rosso è tutto un po' di fianco non sono mai riuscito a stare non ho mai capito ma perché deve essere una pratica quotidiana qualsiasi cosa io infatti quando qualche giovane artista così mi chiede io credo nel nel lavoro quotidiano cioè che ogni giorno fai qualcosa se tu quotidianamente fai qualcosa vedrai che la mano sarà più libera di muoversi anche il pensiero la lettura cioè qualsiasi cosa però la devi fare quotidianamente devi avere questa disciplina e il disegno credo che sicuro è così dimmi invece i nomi delle opere è una cosa che ti faccio un esempio se io a volte ho un'idea per fare un video ok così insomma devi trovare il titolo e spesso il video parte dal titolo cioè ho un'idea di una frase non so si impaziente con le azioni ma paziente con i risultati è una frase di Nalan Ravikant boom quello lì è un video e da lì a ritroso parte il processo di dire ok dove arrivo cioè come arrivo a quella frase lì no è così anche per te oppure una volta che tu guardi un'opera fai quello che bisognerebbe fare con i bambini appena nascono nel presente che si decide il nome prima invece tu dovresti prima vedere tuo figlio appena nasce e poi dire allora con questa faccia qua lo chiamerò baby Yoda non so ecco e quindi è un po' è un po' così qual è il percorso che segue no no cioè prima nasce l'idea l'opera poi mentre lavora e dipinge in quei giorni pensa al titolo quindi il titolo nasce spesso dopo ok il titolo del quadro qui dietro è quasi amice prendo spunto anche dal cinema dalla letteratura insomma per esempio c'è un'opera dove si vede Robin no Batman Robin così triste solitario no e il titolo è tipo la solitudine dei numeri due cioè capisci c'è sempre giocare un po' sui titoli che già magari esistono però magari apportando delle piccole mauretate però come fai nel momento in cui un'opera invece è per un mercato internazionale perché ad esempio alcuni modi di dire che noi abbiamo italiani funzionano in Italia ma per l'estero è una cultura magari o una battuta o un modo di dire che non esiste no è un problema ti sei posto o semplicemente una traduzione un adattamento che viene fatto no guarda allora io amo così tanto l'Italia che vorrei che gli altri parlassero in italiano quindi se posso apportare un po' di italiano nel mio lavoro nel mondo guarda lo faccio con piacere ma guarda spesso anche i titoli a volte sono anche in inglese quindi non lo so non c'è una regola se vedo che funziona in italiano lo faccio in italiano se vedo che funziona in inglese lo faccio in inglese quindi se qualcuno non capisce tanto c'è Google Translation quindi guarda bene che significa Giuseppe quali sono quali sono gli artisti se ci sono degli artisti che che ti ispirano particolarmente che li vedi e dici mamma mia questo è una fottuta genia fottuto genio c'è qualcuno in particolare? Sì allora io come artiste di riferimento ho Andrea Pazienza che è stato un fumettista degli anni ottanta morto prematuramente e per me lui è una miniera una risorsa cioè attingo cioè se lo guardo proprio mi stimola credo che sia stato un veicolo importante insomma nel mio lavoro poi ho tutta gli artisti del rinascimento tipo Raffaello mi affascina tantissimo perché insomma sembrano semplici le sue opere rispetto magari diciamo a una sofisticazione delle opere di Leonardo o di Michelangelo ma in realtà concettualmente le opere di Raffaello sono veramente dei capolavori ok poi se vuoi ti faccio anche un nome di un artista contemporaneo vivente giovane che per me è zero calcare per me zero calcare è veramente un genio un lavoratore stancabile insomma ti dirò che mi affascina molto questo questo artista ok e quando guardi invece la criptoarte vai apri e vedi non so criptoartisti vedi qualche cosa pensi mamma mia che schifezze che visione hai ma guarda io conosco il lavoro di alcuni artisti che già conoscevo prima insomma nel sistema dell'arte quello fisico e quindi già mi piacevano e mi affascinavano anche prima e in questo nuovo mondo ho conosciuto il lavoro di skygulp mi piace molto perché c'è c'è proprio la cioè lui cerca di trasferire insomma sul nella criptoarte proprio la forza espressiva della pittura quindi che è qualcosa di difficile però nei tentativi che lui fa credo che riesca e poi non lo so Giovanni Motta che secondo me lui racconta questo Johnny Boy questo bambino interiore ma lo racconta proprio con una forza espressiva incredibile cioè proprio dentro questo Johnny Boy quindi come vedi ognuno di noi deve ogni artista deve trasmettere le proprie passioni solo lì il lavoro diventa veritiero io mi ricordo all'inizio quando ho iniziato a fare questo lavoro sono arrivato a Milano c'era tutto questo mondo di conceptual art insomma iper conceptual insomma tutti i filosofi dell'arte tutti a esprimere concetti quando i filosofi sono molto più bravi degli artisti e io invece rappresentavo che sono Lady Oscar Candy Candy Goldrick non voglio che mi prendevano in giro ma sicuramente mi prendevano alle spalle però io ero sincero in queste cose cioè raccontavo quei sentimenti adolescenziali che in qualche modo hanno formato la mia coscienza capito cioè io ho pianto con Candy Candy o Lady Oscar cioè ero lì che davanti Lady Oscar era un must era un must lui come si chiamava Terrence il fidanzato quello quello di Lady Oscar sì Lady Candy Terrence era di Candy Candy ah Terrence di Candy Candy Oscar era Andre 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 mamma mia Lady Oscar era un must a volte quando mi dicono ma chi è che ti manca da intervistare io dico sempre ma mi manca solo la mamma di Goldrick e il resto ho intervistato praticamente Mezzomondo quindi se fai un'opera sulla mamma di Goldrick ti preso Giuseppe avvisami perché la mamma di Goldrick io la vorrei vedere prima o poi la mamma di Goldrick è come la moglie di Colombo dell'ispettore Colombo bisogna dargli un viso senti per chiudere questa chiacchierata come come ti vedi da qua diciamo ai prossimi periodi non so neanche più dire prossimi mesi prossimi anni prossimi decenni rispetto a questo criptomondo lo vedi diciamo sempre di più nel tuo DNA è una cosa parallela dove tu vai avanti e fai quello che ti senti e poi bene c'è anche quel canale di distribuzione o c'è una community anche lì come lo inquadri guarda io non so il futuro cosa mi non lo so cosa io credo che continuerò a dipingere questo questa è la mia natura quindi su questo non credo che però questo aspetto critto visto che le mie opere acquisiscono anche un'altra identità perché aggiungo delle animazioni dei rumori cioè quindi è come se l'opera acquisisse diciamo una nuova identità e anche emotivamente chi ha visto le due opere ha vissuto due sensazioni diverse per me sono due monti paralleli che possono convivere nello stesso artista cioè vivere contemporaneamente le due sensazioni creative in questo caso non avevo pensato al fatto che ad esempio l'opera che hai dietro in un formato diciamo digitale può avere appunto tutta una multimedialità che diventa un'altra cosa ecco posso sentire il suono dello sparo posso sentire Topolino che dice presto la vedrai perché ci sto lavorando per realizzarla in effetti infatti ci sono animazioni rumori insomma e infatti anch'io vivo un'altra sensazione della stessa opera capito quindi per me è un'aggiunta che tu dai al mondo dell'arte non so come dire dai nuove sensazioni nuove emozioni quindi non è per niente questo scettichismo che hanno molti artisti sull'arte cripto e credo che sia sbagliato e poi immagino che ti ritroverai a sviluppare anche nuove competenze abilità che magari non avevi perché a quel punto se devi aggiungere solamente un suono a quel punto qual è il suono è lo studio del suono da dove arriva sto suono e parte tutto il mondo del suono oppure se gira è una inquadratura quasi da regia allora diventa quasi devi liberare lo Spielberg che è in te e via così e quindi si aprono tanti settori interessanti ecco perché io ho fatto i fumetti prima di arrivare alla pittura e quindi il linguaggio onomatopeico cioè si è abituato a vivere l'immagine immaginando i rumori i suoni e quindi tutto torna guarda qualsiasi esperienza tu faccia precedentemente al tuo lavoro torna tutto molto bene Giuseppe senti ti ringrazio molto per questa chiacchierata davvero dove ti si trova online quali sono i posti che presidi principalmente se uno ti vuole scoprire ma io su Instagram Twitter e Facebook poi c'è il sito giuseppeveneziano.com insomma chi mi cerca mi trova Giuseppe grazie mille e alla prossima occasione al prossimo aggiornamento grazie a te saluti a tutti i tuoi spettatori ciao